Rubo il titolo di questo buongiorno a Pippo Civati per riconoscenza anche verso la comunità di possibile partito da lui fondato e ora egregiamente retto dalla segretaria Beatrice Brignone che sull'antifascismo ha sempre tenuto la barra dritta in questa epoca di pendoli e poi perché predappiochismo secondo me disegna perfettamente questi ultimi giorni e rubo a lui anche l'idea di presentare a Giorgia Meloni quei vent'anni, il ventennio di girato perché possa farsi un'idea di quello di cui stiamo parlando Giorgia Meloni appunto, costretta ieri a dire qualcosa sul fascistissimo attacco alla CGL di Roma da parte di alcuni schifosi fascisti ci ha illuminato con la sua ipotesi di uno squadrismo organizzato dice di cui si disconosce la matrice fantastica, Giorgia Meloni, la leader della destra matriciana che è diventata così brava se ci pensate a fare zizzag in mezzo alla merda inventandosi tutti gli aggettivi e le perifrasi possibili siamo passati dai patrioti, sovranisti, gli italiani, ora ci sono gli squadristi l'importante è non pronunciare la parolina magica ovvero fascisti senza la quale, tra l'altro, Giorgia Meloni non riuscirebbe nemmeno a raccattare i voti per fare l'amministratrice del suo condominio se andiamo avanti così, questi sono talmente vigliacchi che si metteranno d'accordo di sostituire la parola camerati, che ne so, con zucchine e cammineranno per le vie del centro della nostra città inzucchinandosi e sentendosi dei veri rivoluzionari allora vale la pena spiegare a Giorgia Meloni, piuttosto deboluccia a scuola quando si trattava della lezione di storia, quale sia la matrice a Roma sono stati arrestati, ad esempio, Roberto Fiore e Giuliano Castellino Roberto Fiore ha 62 anni, è uno dei fondatori di Forza Nuova a 19 anni aveva fondato un'altra merda che si chiamava Movimento Eversivo, terza posizione negli anni 80 viene condannato per associazione sovversiva e banda armata ma come tutti i fascisti è scappato come un coniglio in Inghilterra, è orientato in Italia solo quando la condanna era ormai prescritta Giuliano Castellino invece di anni ne ha 45 è il leader locale di Forza Nuova a Roma aveva fatto parte della destra di Francesco Storace prima ancora di Fiamma Tricolore lotta contro il Green Pass ma vigliacamente è corso a farsi il Green Pass perché poveretto doveva andare alla partita allo stadio nel 2017 cercò di impedire lo sgombero di un appartamento nel quartiere Trullo di Roma che, oddio che vergogna era stato assegnato legittimamente da una famiglia eritrea fu condannato, violenza, lesioni, resistenza pubblico ufficiale oltre che per manifestazione non autorizzata nel 2019 ha aggredito un giornalista dell'Espresso durante una manifestazione neofascista al cimitero del Verano l'anno scorso è stato condannato in primo grado è riuscito a beccarsi numerosi d'aspo che sono quei provvedimenti che vengono presi perché gente come Castellino non vada allo stadio a fare casino attualmente è sotto regime di soveglianza cos'è il regime di soveglianza? è una condizione di controllo da parte delle forze dell'ordine che viene applicata alle persone ritenute socialmente pericolose poi tra gli arrestati c'è Luigi Eronica chi è Luigi Eronica? 65 anni conosciuto come Er Pantera appartenente ai NAR i nuclei armati rivoluzionari accusati negli anni 70 e 80 di aver animato la stagione degli anni di piombo attraverso stragi, attentati Eronica si è beccato 18 anni e due mesi di condanna nel processo NAR 1 poi c'è Fabio Corradetti Corradetti vent'anni già molto in ascesa in Forza Nuova Romana è conosciuto come il figlioccio di Castellino guardate non per un eccesso di fantasia semplicemente è il figlio della compagna di Castellino perché poi questi sono tutti per la famiglia tradizionale ma sono tutti pluri separati nella migliore dell'ipotesi un paio di anni fa per i suoi 18 anni ha deciso di regalarsi così un compleanno meraviglioso e insieme a un gruppo di coetani ha lanciato sassi contro una pattuglia dei carabinieri nel quartiere Valle Aurelia è stato condannato poi c'è Biagio Passaro che è il leader del movimento Io Apro ve li ricordate? sono i ristoratori che si lamentano che le norme anti-covid e oggi Green Pass non gli permettono di fare abbastanza soldi tra l'altro il movimento Io Apro è quello che ha accarezzato guarda un po' il caro Salvini e poi c'è l'organizzatrice della manifestazione Pamela Testa Pamela Testa basta che andate a cercavela su Facebook è una che si emoziona ogni volta per Fiore Castellino ora dico stante così le cose cara Giorgia Meloni ti è chiara la matrice buon notte grazie a tutti